Esatto, di Riccardo che ultimamente è più sorridente del solito, occupoci chiaramente. Sì, lo vediamo bello felice, no? Come mai a questo punto? Spiegaci. Ma sono sorridente perché finalmente siamo tornati a esprimere il nostro calcio, le vittorie portano buon umore, quindi non posso che essere sorridente e cerco di dare continuità a questo io, come tutti i miei compagni, a questo periodo positivo che stiamo attraversando, non è stato facile perché venivamo da un momento di difficoltà e uscirne in questo modo non era scontato e ora secondo me è giusto invece dare seguito a questo bel momento. Andiamo subito sul campo, sulle partite giocate, vado all'ultima partita, al momento in cui tu crei in venti per Jovic, il gol che proprio porta la vittoria, ti chiedo cosa ti è passato per la testa in quel momento in cui hai dovuto creare? Vogliamo entrare proprio nella testa del fantasista e di quello che crea? Spiegaci. Allora, mi è arrivata la palla da Jack, ho visto Dodò che si è inserito e la prima idea è stata quella di servirlo, però il difensore l'ha seguito quindi non c'era più quel passaggio, ho dovuto cambiare giocata quindi ho provato un controllo verso l'altra parte del campo e non vedendo nessuno dall'altra parte ho immaginato che l'attaccante fosse dietro di me e quindi ho provato una palla così istintiva che magari altre volte va in mano al portiere e invece questa volta è andata molto bene quindi ho provato nello stretto a imbucare la palla e è finita bene. Allora, io a proposito di questo leggo questo commento che mi piace molto di Luca V27 io non credo nella magia ma Ricchi mi stai facendo ricredere sei il calcio, bello e vero. Questa è bellissima poesia. È bellissimo, come commenti questi livelli aggettivi? Mi emozionano perché quando riproduco sul campo delle giocate come questa mi emoziona tanto e il fatto che riesca comunque a trasmettere queste belle sensazioni anche a chi guarda, a chi allo stadio è quello per cui noi giochiamo a calcio quindi sono più che felice di ciò che mi scrivono. E peraltro è quello per il quale noi siamo qua a creare la trasmissione, stare qui con te e riuscire a fare da tramite e vivere queste emozioni per i tifosi che magari ti pongono questi complimenti e delle domande e tu che al tempo stesso ti emozioni quindi direi che ci siamo, possiamo chiudere qui quasi. No, io torno ancora sul campo e mi viene in mente il gol che momentaneamente è stato annullato per quel fuorigioco quindi tutti non si sono potuti godere il momento ma poi col VAR c'è stata una seconda esultanza che quasi ha fatto sorridere dove tu peraltro sei andato proprio insieme ai ragazzi a godertela come i tifosi. Abbiamo le foto bellissime. Sì, è stato un peccato perché ci ha tagliato un po' l'entusiasmo, l'euforia, il fatto che si è stata alzata la bandierina però dalla panchina ci dicevano che il gol probabilmente era buono e nel frattempo, nell'attesa, io sottovoce gli dicevo a Luca che stava vicino a me in inglese gli ho detto Luca se è buono andiamo verso la bandierina gli dicevano se è buono andiamo verso la bandierina però non immaginavo che poi lui andasse oltre i cartelloni non si è fermato, non si è fermato dritto e quindi ci siamo finiti è stato un momento di grandissima euforia era da un po' che non vivevo un momento di tale energia, di tale entusiasmo e penso che poi si è visto nella mia esultanza, in quella di tutti, di tutto lo stadio è stata una liberazione. Con il mister che cosa vi siete detti anche prima magari di entrare in campo? Sappiamo che avete un bellissimo rapporto, l'abbiamo visto anche a Riga dopo il tuo gol è stato bellissimo e la scena hai tirato un pestone per sbaglio e anche poi quel cambio, a me la percezione è stata proprio voluta loro stavano soffrendo molto in quella posizione tu sei un mago in quella parte di campo anche se poi l'assist è arrivato dall'altra parte ma la Sanitana stava soffrendo in quella parte proprio sul limite ti ha fatto entrare, sembrava proprio una scelta, una sintonia tra tu e il mister e tu sapevi già quello che dovevi andare a fare Sì, credo che il mister avesse la sensazione che potessimo fare male in quella zona o comunque con il nostro potenziale offensivo e in quel momento non lo stavamo facendo abbiamo avuto un paio di occasioni che non siamo riusciti a sfruttare e niente, lui mi ha messo in campo dicendomi di provare appunto a fare una giocata determinante e già dai primi tocchi di palla mi aveva subito stimolato molto perché aveva visto che ero entrato bene in campo quindi vedevo che era molto propositivo nei miei confronti e poi niente, dopo siamo riusciti appunto a trovare questa giocata ed è finita bene Andiamo avanti con le domande, scusa Angelo Allora, Filippo Barba ti chiede Quali sono le principali differenze nel partire largo e giocare in mezzo al campo per te? Ma allora, sono situazioni un po' diverse partendo largo sicuramente ho la possibilità di vedere il campo nella sua totalità perché ovviamente l'uomo, il marcatore ce l'hai di fronte a differenza magari di giocando dentro dove hai l'uomo magari alle spalle non ti permette di girarti spesso verso la porta quindi quando ricevo largo ho la possibilità di fare qualche tocco in più di provare a puntare l'uomo di rientrare verso il campo magari mandare un compagno sul taglio provare a giocare con la punta venendo dentro al campo c'è un po' più di densità di giocatori quindi bisogna velocizzare un pochino la giocata provare a giocare di prima o a due tocchi e sicuramente si restringono un po' le possibilità di giocata però con comunque una giocata rapida si possono trovare dei varchi per andare subito in porta ecco magari giocando largo bisogna trovare una trama di gioco un po' più elaborata allora affrontiamo Angelo anche la parte del tirare un po' le somme perché domenica ci sarà l'ultima partita di questo 2022 prima della sosta per i mondiali quindi è stato un mini campionato dal 14 agosto fino ad oggi momenti difficili risalita, rinascita raccontaci un po' come l'avete vissuta come l'hai vissuta te è stato una montagna russa secondo me perché siamo partiti con grande entusiasmo e ci siamo ritrovati dopo le prime due tre partite di campionato ad affrontare questo momento di difficoltà dovuto secondo me a tanti fattori a qualche infortunio forse non è tanto Nicolò Necco li salutiamo perché vorrebbero essere al mio posto li saluto sono qui che fanno un po' scusa mi è tutto il rotto ci siamo trovati ad affrontare questa nuova competizione che secondo me ci ha fatto incontrare qualche difficoltà dovuta anche a qualche infortunio di troppo che non ci ha permesso di dare il cambio soprattutto di energie, di forze fresche nei vari sfide ravvicinate che abbiamo incontrato quindi è stato un mese molto intenso dove secondo me siamo andati un po' in confusione nella difficoltà credo che comunque si vedessero i segnali di una possibile risalita perché comunque siamo sempre stati noi il nostro gioco è sempre stato quello mancava un po' di entusiasmo un po' di brillantezza un po' di consapevolezza però credo che non avessimo mai perso le nostre caratteristiche al di là dei risultati negativi che abbiamo trovato quindi è bastato poco poi per ritrovare le nostre certezze e tornare a riproporre il nostro gioco che ci ha sempre contraddistinto io torno al momento esultanza perché poi è un aspetto particolare questo ci siamo chiesti già più volte ma voglio ritornarci quanto veramente poi conta questo discorso di energie perché voi trovate il gol e poi vi godete il momento e andate ad esultare in una stagione ci sono momenti in cui le cose magari non vanno molto bene in cui non si può anche affossare psicologicamente l'abbiamo visto dove veramente a un certo punto fa fatica ad uscirne e poi ci sono invece questi momenti che ti riaccendono e ti liberano e ti danno un'energia voglio chiedere a te se ce la spieghi perché effettivamente è un aspetto psicologico che è piccolissimo ma enorme al tempo stesso sì 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 assolutamente sono comunque il calcio è fatto di questi momenti qui di alti e bassi abbiamo giocato parire quest'anno dove non riuscivamo a esprimere il nostro gioco e di conseguenza non riuscivamo neanche a trasportare con noi la gente che ci stava intorno la gente che ci guardava quando riusciamo invece a trovare le nostre combinazioni le nostre trame di gioco poi viene di conseguenza che si alza l'entusiasmo di tutto lo stadio e siamo noi coloro che vengono chiamati a trascinare il pubblico l'anno scorso abbiamo vissuto tanti di questi momenti soprattutto in partite che mi ricordo la partita con il Milan l'ultima con la Juve in tanti momenti comunque comunque abbiamo entusiasmato e ovviamente abbiamo alzato l'entusiasmo l'energia dello stadio abbiamo vissuto momenti veramente bellissimi e poi ecco soprattutto poi quando segni un gol un gol vittoria dopo tutto il momento che abbiamo vissuto è chiaro che è una liberazione siamo scoppiati tutti ho proprio percepito questa grandissima liberazione da parte di tutti da parte anche e soprattutto dei tifosi perché l'hai detto tu si percepiva già l'anno scorso che avete creato qualcosa di bellissimo e la dimostrazione poi di affetto e anche il voler ripagare voi sul campo è stata qui allo stadio che praticamente è sempre stato sold out anche mercoledì scorso 30.000 tifosi quanto sentite l'importanza e la vicinanza dei tifosi? no, tanto, tanto perché lo stesso mister quando a volte immagina le azioni nella sua test prova magari a raccontarcele a spiegarcele o a insegnarcele a volte anche lui immagina però se facciamo così aliziamo il pubblico se proviamo a fare una giocata così con questa combinazione sicuramente esplode lo stadio è una cosa su cui comunque fai leva perché sai che proponendo un gioco come il nostro comunque improntato all'attacco alla pressione offensiva è chiaro che viene facile portare il pubblico proprio dal pubblico della nostra infatti quando siamo usciti tra i fischi nelle partite precedenti per noi è stato un colpo al cuore perché dopo una stagione come quella passata dove abbiamo invece l'anno scorso invertito il trend degli anni precedenti siamo riusciti invece a far ritornare questa positività quest'anno dove invece eravamo chiamati a dare continuità a tutto ciò invece siamo ritrovati a fare un passo indietro da questo punto di vista per noi è stato un colpo un colpo difficile da digerire e questo è stato uno degli obiettivi che il mister stesso ha fissato prima dell'ultimo mese cioè tornare a riportare la gente dalla nostra parte e avere un'arma in più soprattutto giocando in casa bello c'è da dire che come inizio stagione vabbè Riccardo noi saremo qui delle ore ad ascoltarti comunque perché sei veramente un libro aperto ed è veramente piacevole cioè non è neanche un'intervista comunque al di là di questo avete avuto anche un pizzico di sfortuna inizialmente non deve essere una giustificazione però tanti infortuni partiti che magari avete dominato dove purtroppo il risultato non è arrivato quindi insomma bene adesso finalmente abbiamo rivisto la vera Fiorentina 5 vittorie poi di fila quindi direi un ottimo momento per voi abbiamo già parlato più volte ma non so dove voleva arrivare ma comunque volevo farti complimenti e spiegare che chiaramente la stagione iniziale era stata un po' condizionata anche da momenti non fortunati per voi diciamo in base allora sei tenuto a rispondere no volevo solo dire che gli episodi sicuramente fanno parte del calcio è chiaro che poi i trend li determiniamo noi gli episodi a volte sembra che vadano un po' dalla parte dove tu riesci ad andare quindi sì sono stati un po' sfortunati però si percepiva che sicuramente un episodio magari a volte cambia un po' le sorti di una partita di un momento però si percepiva che mancava qualcosa questa Fiorentina e nell'ultima partita credo che si sia notato questo cambio di marcia con il duro lavoro si può arrivare ovviamente anche il nostro Jack Bonaventura esatto Giulia si scrive grande ricche bellissima esultanza Adriana invece ti scrive in realtà ti hanno già chiesto in altre dirette però lo ripropongo naturalmente sempre come ti trovi in città tu che ormai vivi Firenze da tempo quindi la conosci bene mi trovo molto bene quest'anno giocando tante partite ravvicinate non ho mai avuto la possibilità di tornare a casa mia quindi anche nelle mezze giornate o nelle giornate nei poche giornate libere che abbiamo avuto ho approfittato per fare una passeggiata in centro per conoscere ancora di più la città ormai la sento come casa mia e mi trovo benissimo qualche anno fa ho vissuto in centro quindi avevo vivevo ecco andavo a piedi in centro camminavo per il centro quest'anno mi sono spostato in un'altra zona della città un po' più tranquilla un po' più tranquilla dove c'è più la viabilità più facile c'è una comodità in più però ecco quando una giornata mezza giornata di riposo un pomeriggio libero prendo la macchina vado in centro perché è la zona che mi piace di più anche perché Firenze ovunque la si guardi è meravigliosa siamo in chiusura ultimissima domanda un focus sull'ultima partita sulla prossima contro il Milan a San Siro che squadra ti aspetti se riesci a dare una mano alla squadra come un gulla anche la partita di Milano per te è sempre speciale poveri sì giocare a San Siro comunque è sempre speciale per tutti perché è uno stadio meraviglioso e molto simulante perché in questi ultimi anni il Milan è diventata una squadra di altissimo livello e ha un seguito incredibile allo stadio quindi sarà una battaglia davvero stimolante e credo che per il momento che stiamo vivendo possiamo avere le carte anche per metterli in difficoltà e provare a rosicchiare qualche punto a una squadra che è diventata comunque ormai una certezza del nostro campionato non sarà semplice perché loro hanno bisogno di tutti i costi di punti e noi vogliamo invece continuare la nostra striscia positiva bene grazie mille Ricky allora per questo momento che ci hai dedicato che soprattutto è dedicato ai nostri tifosi sei pronto per andare a spegnere la diretta saluti a tutto te vai niente vi ringrazio per averci seguito e vi aspettiamo prossimamente allo stadio forza viola e adesso mi tocca se riesco qui c'è una notifica che la tolgo ok ciao a tutti termina grazie mille Grazie.